è buono? buono guarda che lucentezza davvero puro è di eccezionale qualità non c'è dubbio è oro e allora prendo il pane sagra oro e l'olio extravergine di oliva 100% italiano ricco di gusto e a bassa acidità l'oro che fa più prezioso ogni piatto stra buono sagra oro oro italiano